Federico Panerai, Nicolò Rocchi, una partita tiratissima in un ambiente incredibile che non credo vi sia mai capitato di provare, vero? Sì, è stata molto dura per noi, soprattutto che facciamo del fattore campo, un'arma a nostro favore, oggi non giocare davanti al nostro pubblico è stato difficile, contro un'ottima squadra, siamo riusciti a portarla a casa all'ultimo, ma è stata molto sofferta. Federico? Sì, come ha detto appunto Nicolò, noi facciamo della nostra città, un nostro punto di forza, poi con il nostro pubblico che ci segue, insomma, ci fa piacere, ora per il fatto di questo virus purtroppo oggi ci siamo trovati ad affrontare questa partita in queste condizioni, l'abbiamo portata a casa e va bene così. È stata dura, vero? Molto, molto dura. Sembrava all'inizio un po' più facile, ma le cose non sono mai facili. No, siamo partiti bene, con un buon atteggiamento, poi loro sono usciti piano piano, noi abbiamo accusato un po' il colpo, sono tornati in partita, ce la siamo portata fino alla fine, però era importante portare a casa i tre punti e ce l'abbiamo fatta. Federico, avete finito la partita a contatti proprio, erano tanti i cattivi. Io sì, me lo sono visto addirittura dal terzo tempo su dagli spalti, quindi figurati. sentite, siete preoccupati per questo momento? Ma a livello sportivo? No, sinceramente siamo tranquilli, adesso avremo 20 giorni perché il campionato risponderà il 25, no il 28 se non sbaglio, quindi avremo modo di metterci. Niccolò, tu sei preoccupato per questo coronavirus? Ah, è una cosa da non sottovalutare, però stanno prendendo le giuste misure di sicurezza e poi non sono io a giudicare, non sono in grado di giudicare cosa è bene, cosa è male, ma sono sicuro che la sanità ci aiuterà con le norme di sicurezza. Facciamo una battuta finale, siete in acqua, siete tranquilli, insomma, noi con cloro siamo al sicuro per ora. Noi con cloro siamo tranquilli.